Ospite della puntata di questa settimana del Sassonello Stagno è stato il dottor Michele Formiglio, dal marzo dello scorso anno, prefetto del Verbano Cusio-Ossola. Uno dei compiti, una delle funzioni in capo al prefetto è quello dell'ordine pubblico e della sicurezza. Dottor Formiglio, come il prefetto svolge questo compito e qual è, diciamo, lo stato di salute dell'ordine pubblico nella nostra provincia? Beh, intanto il prefetto è responsabile generale dell'ordine della sicurezza pubblica nella provincia e presiede il Comitato Provinciale per l'ordine della sicurezza pubblica. Per quanto riguarda la situazione nella nostra provincia, io direi, utilizzando un termine, credo che possa in qualche modo far comprendere esattamente qual è lo stato dell'arte sul tema, è soddisfacente. Grazie all'attività di prevenzione e contrasto svolta dalle forze dell'ordine e dall'attenzione che questore, il colonnello dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, l'attenzione che da parte loro sotto questo profilo è massima e quindi è attraverso l'attività delle informazioni che quotidianamente e costantemente mi giungono per avere la situazione sotto controllo. Quindi la nostra, oltre che una bella provincia, è una provincia sicura. Sì, è una provincia sicura, però qui poi il tema si sposta dalla sicurezza reale alla sicurezza percepita. Quindi bisogna lavorare non solo sulla sicurezza reale, ma anche su quella percepita, perché è altrettanto importante. I cittadini devono sentirsi sicuri e noi su questo, insomma, cerchiamo ogni giorno di fare la nostra attività al meglio. Bene, grazie signor Prefetto. Grazie a lei. Grazie a lei.